Avere un animale domestico è una bella esperienza, ma chi ne dite di adottare qualche esemplare un po' fuori dal comune? Vediamo nei video di oggi altri 5 animali domestici davvero unici. Ogni animale che entra in una casa diventa un importante membro della famiglia, così è stato anche per Jim e Susan, che però hanno scelto come animali da compagnia ben 11 orsi. Tra questi spunta un Kodiak, che ha un'altezza di 2,70 metri, per un peso di 635 kg, un vero gigante direi. Il suo nome è Jimmy, e da piccolo, rimasto senza madre, è stato levato fin da subito da Jim e Susan. Il loro rapporto con queste creature è stato ripreso da una telecamera, e il video è andato virale in tutto il mondo. Questa ragazzi è una grande famiglia, un po' insolita, ma sicuramente molto bella. Wendy è una vera e propria montagna di muscoli. La noma alla stazza levassa al titolo di cani più muscoloso del mondo. Solo all'età di 4 anni pesava già 27 kg, circa il doppio rispetto alla media della sua razza. Questa muscolatura imponente, che le conferisce all'aspetto di un cane culturista, non è frutto di uno sfrenato allenamento. La povera Wendy ha una rara malattia genetica, che interessa i muscoli, provocandone una crescita smisurata. La proprietaria rassicura a tutti la totale tranquillità del suo cane, che nonostante l'aspetto minaccioso non è affatto aggressivo. Wendy è abituata a vivere in campagna, tra cani e cavalli, e si goda la libertà di cui ogni animale ha bisogno. Questa deliziosa amicina è Matilda, conosciuta sul web anche come Gatto Alieno, e perfino diventata una star di Instagram, dato che conta più di 150.000 seguaci. A causa di una condizione medica inusuale, Matilda ha due occhioni enormi e lucidi, che la fanno sembrare un extraterrestre filino. I primi sintomi della malattia si sono notati già prima che compiesse un anno, quando la pupilla iniziò a ingrandirsi esponenzialmente. Da lì in poi, gli episodi continuarono sempre più spesso, e dopo una serie di analisi, fu diagnosticata la luce mia filina. Nonostante le sue caratteristiche, la sua famiglia pensa che sia perfetta così com'è, anche se ha un aspetto a dir poco alieno. Hobby è un bassotto diventato famoso negli Stati Uniti per la sua stazza. Era arrivato a pesare fino a 35 kg, guadagnandosi il titolo di cane più grasso del mondo. La sua vita però era a rischio, e così ha iniziato una dieta rigida, che l'ha portato a perdere 18 kg. Per aggiungere il peso forma, oltre a mangiare sano, Hobby ha svolto anche tantissimi esercizi fisici. Il cagnolino è stato persino sottoposto ad un intervento chirurgico, per togliere la pelle in eccesso. Sul suo profilo Facebook ci sono quasi 100.000 seguaci, tutti a incoraggiarlo e a tifare per lui. Un adorabile orsacchiotto di 2,13 m per 140 kg. Si chiama Stefan, ed è completamente domesticato, grazie alle amorevoli cure di Svetlana e Yuri. Una coppia russa che lo hanno allevato fin da quando aveva 3 mesi. Fu infatti trovato nei boschi da alcuni cacciatori, ed era in pessime condizioni. L'orso, 23enne, adesso fa parte della famiglia, e oltre ad essere innocuo, è anche un grande appassionato del pallone. Pensate che Stefan mangia 25 kg di pesce ogni giorno. Comunque a quanto pare, adesso nella famiglia si è giunto anche Semion, che ha due mesi e gode di buona salute. Stefan però sembra un pochino geloso del suo nuovo fratellino. Chissà ora come proseguirà la loro convivenza. Ciao!